L'Associazione Civico 99 del Centro Storico torna sulla questione del palco di San Bernardino, montato per cinque mesi per eventi estivi e non solo. 18 spettacoli in totale a pagamento, peraltro ha sottolineato la Presidente Aloisio. Il montaggio del palco, oltre ad impattare su un bene monumentale sottoposto a vincolo per l'Associazione, ha provocato disagi a tutti, a cui lani turisti e commercianti. L'Associazione aveva già presentato un esposto per verificare la correttezza del montaggio di palco e sedute per gli anni 2021 e 2023, quando si era scoperto che non era stato chiesto nulla osta. Ma poi c'è stato un accesso agli atti anche per il 2024, anno in cui il Comune ha chiesto per la prima volta l'ok, ma poi ha spiegato illegali e non sono state rispettate delle prescrizioni, per cui l'esposto avrà integrazioni. Dunque, noi abbiamo presentato l'esposto perché il palco di San Bernardino è stato montato su un monumento, sottoposto a vincolo monumentale, senza che venisse chiesto il parere della sovrintendenza, da un'impresa che non ha le qualificazioni e per giunta i lavori sono stati diretti probabilmente da un soggetto non legittimato. E questo nel 2021 e nel 2023. Per quanto riguarda il 2024, invece, dopo a seguito di rituali accessi agli atti, abbiamo scoperto che il Comune aveva, stavolta per la prima volta, chiesto il nulla osta della sovrintendenza. La sovrintendenza l'aveva reso con una serie di prescrizioni che erano essenzialmente i lavori devono essere eseguiti da un'impresa che ha le qualificazioni e devono essere diretti da un architetto. Il Comune, invece, non ha rispettato queste prescrizioni, per cui, di fatto, il nulla osta della sovrintendenza è rimasto inosservato e i lavori, anche questa volta di montaggio del palco, devono essere considerati abusivi. Quindi le integrazioni riguarderanno questo aspetto, insomma? Riguarderanno l'anno 2024. La presidente del Civico 99, Claudia Loisi, ha spiegato che ci sarà anche una petizione, una raccolta firme, fatta a norma di legge per invitare il Comune a non montare negli anni successivi il palco. 2025, anno giubilare. 2026, anno dell'Aquila, capitale italiana della cultura. Uno spazio così non va negato alla collettività, insistono. Sì, parteremo avanti una petizione, un'esperienza che abbiamo già affrontato con il palco di Collemaggio, ma in questo caso la petizione non sarà soltanto volta a muovere in qualche modo l'opinione pubblica, quindi fatta in modo informale, ma abbiamo pensato di organizzare la raccolta delle firme nei sensi del regolamento comunale per la partecipazione cittadina, quindi l'articolo 11 che prevede una raccolta firme con caratteri della formalità in modo da sollecitare e quindi poi sarà poi obbligata sia la Giunta che il Consiglio Comunale ad esprimersi in merito all'opportunità di rimontare per l'anno prossimo, avvenire che sarà l'anno giubileare e poi anche il 2026, che invece sappiamo siamo stati eletti a capitale della cultura, e montare nuovamente per un tempo così prolungato il palco di San Bernardino su Piazza Bariscianello, le sedute su tutta la scalinata con la chiusura integrale sia della scalinata che della piazza sostanzialmente.